Ben trovati all'ultima edizione del nostro telegiornale sindacati in piazza per manifestare in favore della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa mattina il presidio a Campobasso in piazza Prefettura e il codice degli appalti va riformato chiedono CGL Will. Sentiamo Pasquale di Bello. Il tragico bilancio di cinque morti in un cantiere di Firenze ha riacceso, semmai si fossero spenti, i riflettori sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, la vita umana prima del profitto. Questo lo slogan che CGL Will hanno adottato per la manifestazione odierna a Campobasso. Ogni anno si contano più di mille morti in Italia. Un bilancio drammatico che richiede una rapida inversione di tendenza. È un dramma che si consuma quotidianamente. Si contano in termini percentuali circa quattro morti al giorno nei luoghi di lavoro. Non sono numeri, sono uomini, donne, madri e padri di famiglia che vanno a svolgere quello che è un dettame costituzionale, appunto il lavoro che dovrebbe portare dignità alle famiglie ma poi non si torna. Purtroppo non è solo più un problema di natura sociale, è un problema anche di carattere politico. I provvedimenti che la politica non prende determinano incidenti sul lavoro, subappalti, appalti a minimo profitto, la diminuzione dei controlli e del reclutamento del personale deputato a controllare. Ecco, non si possono solo piangere lacrime di coccodrillo, c'è bisogno di uno sforzo comune. Tra le categorie più colpite c'è quella degli edili necessaria, chiedono una revisione del codice degli appalti. Il codice degli appalti è stato allargato, i subappalti, quindi ci sono un'infinità di subappalti che possono essere inseriti negli appalti pubblici e quindi a danno della sicurezza. Anche qui a Campobasso noi abbiamo degli appalti che sono stati presi da aziende di fuori regione ma subappaltati ad aziende della nostra regione. Molti lavori vengono svolti da altre aziende perché non tutte le aziende hanno la possibilità di svolgere tutti i lavori nei cantieri e quindi questo crea un problema di sicurezza. Noi chiediamo che nei cantieri edili vengano applicati i contratti edili, che i lavoratori siano formati nelle scuole edili, che soprattutto gli stranieri abbiano cognizione e formazione nelle scuole edili di settore. Come per il quadro nazionale la situazione è altrettanto complessa e allarmante anche in Molise. Il Molise è una terra sottoposta al ricatto del lavoro perché il lavoro non c'è e quindi molto spesso il Molise è maglietta nera in termini percentuali, rispetto alle invalidità e rispetto anche alle morti e questo non va bene in una realtà dove poi il lavoro è poco e invece le invalidità sono tante. Questo significa che anche qui c'è tanto lavoro nero, c'è tanto lavoro precario, c'è tanto sommerso e quindi c'è non rispetto delle regole. L'Italia ha tante regole buone per la sicurezza ma non vengono applicate, tanto è vero che l'Italia poi rispetto agli altri paesi europei è il paese con un alto percentuale di morti sul lavoro. Abbiamo superato i mille morti e quindi significa che in Italia le regole ci sono sulla carta ma non vengono applicate. Bisogna passare a questo punto dalle parole ai fatti. Le sigle sindacali presenti al presidio sono state ricevute dal prefetto di Campobasso. Una studentessa dell'Università del Molise, Maria Letizia Micco, è morta in un incidente stradale all'altezza di Volturino a confine tra Puglia e Molise. La giovane aveva 20 anni ed era originaria del Beneventano. Era conosciuta e ben voluta nel capoluogo e nell'ambiente universitario. Cordoglio è stato espresso dall'Unimol. Sentiamo. Uno scontro frontale a pochi chilometri dal Molise a confine con la Puglia sulla statale 17 in territorio di Volturino. Un impatto che è stato fatale a Maria Letizia Micco, 20 anni, che era a bordo della sua Citroen C3. Studiava a Campobasso scienze della formazione primaria all'Università del Molise. Era il secondo anno e da quanto si è appreso, prima di mettersi in macchina, aveva partecipato in Ateneo a una riunione dei tutor per i ragazzi diversamente abili che aiutava, oltre a essere una brillante studentessa. Lei era di Sant'Angelo a Cupolo, paese nel Beneventano. L'utilitaria, sulla quale viaggiava la giovane, si è scontrata con un'auto guidata da un uomo di 59 anni che è rimasto ferito. Purtroppo a nulla sono valsi gli sforzi dei rianimatori dell'elisoccorso, sul posto anche i vigili del fuoco di Lucera, i sanitari del 118 e la polizia stradale di Foggia per i rilievi. Sconvolta la comunità di Sant'Angelo a Cupolo, che si è stretta al dolore dei genitori e della sorella di Maria Letizia, scossi gli amici dell'Ateneo Molisano, dove era ben voluta e apprezzata. E dall'Unimol è arrivato il messaggio di cordoglio del rettore Luca Brunese, della direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali e della formazione del direttore generale e dell'intera comunità accademica, che hanno espresso profonda commozione e tristezza per quanto accaduto e vicinanza alla famiglia della ragazza, alle colleghe e ai colleghi di corso e ai docenti che l'hanno conosciuta, apprezzandone l'impegno negli studi e la sua spiccata dedizione agli altri. Maria Letizia era, come detto, tutor alla pari. Il commissario ad acta per la sanità Marco Bonamico, d'intesa con il subcommissario Ulisse Di Giacomo, ha ratificato il protocollo d'intesa per la medicina penitenziaria sottoscritto a dicembre del 2023. La provvedimento è stato assunto considerata l'attuale carenza di personale medico nelle carceri di Campobasso, Isernia e Larino. L'8 febbraio l'azienda sanitaria regionale aveva segnalato aggravamenti relativi alla carenza del personale medico negli istituti penitenziari, evidenziando anche possibili ripercussioni di ordine penale. Via Libera del Cosib, alla nascita della Gigafactory a Termoli. Dopo la riunione del Consiglio generale del Cosib c'è stata l'approvazione della delibera che ha autorizzato la joint venture alla realizzazione dell'impianto a Termoli. Sentiamo Dalila Catenaro. Il Cosib ha dato l'autorizzazione alla nascita della Gigafactory a Termoli. Da prima la riunione del Consiglio generale del Cosib, presieduto da Pierdonato Silvestri, dove è stata approvata la delibera che ha autorizzato la joint venture tra Stellantis, Mercedes e Total Energy a realizzare lo stabilimento nella città costiera. Stabilimento che sarà operativo dal 2026 e che impiegherà 1.800 lavoratori, arrivando entro il 2030 a 2.000 occupati. Un'iniziativa volta a portare numerose novità positive sul territorio, economiche in primis. Lo stabilimento occuperà 1,2 milioni di metri quadrati e produrrà batterie per auto elettriche. Un grande passo avanti e un rilancio importantissimo per il Molise. Si avvia una nuova era, già partita con la Gigafactory presente in Francia e successivamente in Germania. Lo stabilimento di Termoli rappresenterà un grande passo in avanti per uno sviluppo sostenibile. È stata avviata una raccolta fondi per aiutare il titolare della carrozzeria distrutta da un incendio ieri pomeriggio tra Toro e Monacilioni. L'iniziativa è di alcuni amici del titolare che hanno attivato una sottoscrizione online su GoFoundMe. Vogliamo aiutare un amico in seria difficoltà? Hanno spiegato che è un ragazzo che ha perso il suo capannone e tutto ciò che conteneva per l'incendio. L'officina era il suo riscatto, l'ha aiutato a far parte della società e il suo lavoro gli ha permesso di crearsi una bella famiglia e un nutrito gruppo di amici. Questa raccolta fondi hanno concluso servirà a ricomprare le attrezzature e a ripagare i danni alle vetture che erano in quel momento nella carrozzeria. Autonomia differenziata, nessun pericolo per i livelli essenziali di prestazioni. Ad assicurare la copertura finanziaria ci sarà l'intervento dello Stato. A dirlo è Michele Marone, assessore regionale nella Giunta Roberti e commissario regionale della Lega. Sentiamo ancora Pasquale Di Bello. Un intervento il suo da assessore ma soprattutto da commissario regionale della Lega in Molise. Michele Marone, proconsole di Matteo Salvini in regione, è intervenuto nel corso dell'acceso dibattito sul tema dell'autonomia differenziata. Il tema oggetto dell'ultimo consiglio regionale, una riunione monotematica dedicata all'argomento, ha visto un aspro e combattuto dibattito tra maggioranza e opposizione. Una delle questioni più dibattute è stata quella dei leppi, livelli essenziali di prestazioni e del loro finanziamento. Secondo le opposizioni a carico totale della regione, fatto che Marone smentisce, precisando, sarà il governo, quindi lo Stato, il garante dei livelli essenziali di prestazione. Una normativa meramente procedimentale di attuazione del dettato costituzionale prevede determinate cose. E fra quello che viene previsto è che l'autonomia differenziata non può essere attuata se non sono garantiti i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. Per cui la spesa necessaria per garantire l'uniformità per tutte le regioni d'Italia dei livelli essenziali delle prestazioni, dai servizi sociali a quelli sanitari, piuttosto che la mobilità e i trasporti, devono essere garantiti dal governo. Tant'è vero che un articolo puntuale di questa proposta di legge prevede che dopo questa previsione c'è l'intesa, ci deve essere un'intesa in sede di conferenza delle regioni con il governo. In base al fabbisogno, quindi ogni regione deve dichiarare il proprio fabbisogno di ogni servizio, quindi in base al fabbisogno regionale, il governo garantirà i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. La riunione del Consiglio regionale si è conclusa con l'approvazione di un ordine del giorno della maggioranza che istituisce sul tema dell'autonomia differenziata una commissione di studio dalla quale arriveranno proposte e indicazioni, uno strumento trasversale a tutte le forze politiche, un segnale positivo, dice Marone, quello col quale Roberti e la maggioranza aprono a posizioni condivise. Bisogna dare atto al governo Roberti e alla maggioranza Roberti di questa apertura, perché il presidente Roberti è sempre aperto al confronto, per cui al di là del preciso dettato costituzionale, il presidente Roberti dice attenzione, guardiamoci tutti quanti, cioè confrontiamoci, ogni forza politica porta la sua proposta e quindi in un organismo regionale che deve tutelare gli interessi della regione molise, attenzione perché noi, il governo regionale, il governo Roberti, deve tutelare la regione molise, allora in virtù di questo principio che è sovraordinato a qualsiasi altra questione, deve prevedere il confronto dialettico-politico delle parti sociali e di tutto quanto possa essere utile per raggiungere il soddisfacimento del fabbisogno di tutti i livelli essenziali delle prestazioni di cui ha bisogno la regione molise. Il vicepresidente di Confindustria Molise, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente nazionale della piccola industria, sempre di Confindustria, si è soffermato sul recente aumento delle tasse regionali, sarà un ennesimo bagno di sangue per imprese e cittadini molisani che ha detto oggi hanno una sola certezza, pagheranno più tasse e avranno meno servizi. Sentiamo Enzo Luongo. 24 ore dopo l'attacco del presidente Vincenzo Longobardi sulla questione della delibera sui crediti vantati da imprese, enti e cittadini, la Confindustria molisana mette di nuovo nel suo milino la regione. Stavolta a parlare il vicepresidente Mauro Natale, il tema è l'aumento delle tasse. Le misure recentemente varate, esordisce Natale, impattano fortemente sulle imprese attive in regione perché generano un aumento dei costi diretti e una contrazione dei servizi amministrativi a supporto del sistema imprenditoriale. Gli industriali fanno riferimento alla delibera della giunta regionale del 29 gennaio scorso che stabilisce la transazione dei debiti commerciali della regione perché in quella stessa delibera sono indicate anche le misure che l'ente dovrà adottare per ripianare il disavanzo, prima fra tutte l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF in deroga al limite previsto dalla legge. A questo strumento si dovranno aggiungere altre misure che penalizzeranno ulteriormente chi opera in questa regione. È previsto infatti, dice ancora Natale, anche un incremento dei canoni di concessione e locazione del demanio e parallelamente lo snellimento e la riorganizzazione della struttura amministrativa. Pur aumentando al massimo le entrate derivanti dalle tasse e dalla valorizzazione del patrimonio, conclude Natale e pur snellendo la macchina amministrativa, il bilancio regionale non chiuderà mai in pareggio. Sarà un ennesimo bagno di sangue per imprese e cittadini molisani che oggi hanno una sola certezza, pagheranno più tassi e avranno meno servizi. La famiglia di Pasquale Cifelli, l'uomo trovato senza vita fuori dall'ospedale di Isernia, chiede la verità. A distanza di un anno non è stato reso ancora noto l'esito dell'autopsia sull'uomo di Castelpetroso morto in strada poche ore prima delle dimissioni dal veneziale in circostanze ancora tutte da chiarire. Sentiamo Davide Gambardella. Resta ancora avvolta dal mistero la morte di Pasquale Cifelli, l'uomo originario di Guasto, frazione di Castelpetroso, trovato senza vita il 16 marzo del 2023 a mezzo chilometro dall'ospedale veneziale di Isernia. A distanza di quasi un anno dalla sua scomparsa non è stato ancora reso noto l'esito dell'autopsia effettuata pochi giorni dopo il decesso. Sono i familiari di Pasquale oggi a chiedere attraverso il loro legale, l'avvocato Elena Bertoni, di fare chiarezza sulla vicenda e di conoscere i risultati di un esame autoptico che inspiegabilmente non è stato ancora depositato. Le indagini sono state quasi tutte quante espletate e purtroppo ancora a distanza di un anno non abbiamo l'esito, non sappiamo che cosa è successo quel giorno. Per i parenti di Cifelli quella morte si poteva evitare. Il 16 marzo Pasquale, 76 anni, si reca al pronto soccorso del veneziale dove gli viene diagnosticata una bronchite acuta. Lui resta in reparto diverse ore, cena nel nosocomio, mentre i parenti lo attendono all'esterno per riportarlo a casa. Dimissioni, perché secondo il referto il paziente non necessiterebbe di cura in ospedale. Poi il vuoto. Tra le 19 e le 20 Cifelli risulta irreperibile. Esce dal nosocomio, percorre 500 metri e poi si accascia a terra. Alcuni passanti, compresa un infermiere agenti della Polizia di Stato, cercano di aiutarlo, ma per il 76enne non c'è nulla da fare. Qualcuno chiama l'ambulanza, ma il destino è ancora più beffardo. L'ambulanza arriverà 20 minuti dopo perché a Disernia non ce ne sono. Il signor Cifelli era stato ricoverato nel primo pomeriggio del 16 di marzo di un anno fa al pronto soccorso di Disernia ed era lì. La famiglia era fuori dalle porte del pronto soccorso e all'improvviso, nella serata, intorno alle 19 e 30, 19 e 40 orientativamente, è stato trovato morto davanti all'ospedale di Disernia nei pressi delle onoranze funebri che sono lì collocate. Quindi, inaspettatamente, i familiari si sono ritrovati da una degenza nel pronto soccorso a un decesso in mezzo alla strada, senza avere una motivazione e siamo ancora in attesa di avere giustizia, di sapere le cause che hanno portato purtroppo questa morte improvvisa, che cosa è successo quel giorno, come mai il signor Cifelli era fuori dall'ospedale e non era dentro il pronto soccorso dove era ancora ricoverato. Saverio Flocco è il nuovo direttore facente funzioni del reparto di ostetricia e ginecologia all'ospedale Santimotio di Termoli. Flocco ricoprirà il ruolo di facente funzioni fino alla nomina del direttore primario vincitore del concorso con la delibera del direttore generale, gli è stato conferito l'incarico. È stato presentato all'assessorato regionale alla cultura al palazzo ex gil di Campobasso il ricco cartellone della stagione dei concerti dell'orchestra sinfonica del Molise. Tanti grandi nomi che si esibiranno da fine marzo a dicembre in diverse location anche fuori regione. Sentiamo. 17 produzioni, 28 concerti dal 24 marzo al 28 dicembre, grandi nomi per un cartellone di assoluto spessore internazionale, quello della stagione dei concerti dell'orchestra sinfonica del Molise presentata al palazzo ex gil di Campobasso, concerti alla Savoia, del capoluogo all'auditorium di Isernia, a Venafro, al teatro di Agnone, a Termoli ma anche a Roma, a dicembre per il giubileo, a Benevento, a Salerno, da Beethoven a De Andrè, dalle musiche dei film allo swing, al suono delle campane, contaminazioni, concerti che sposano gusti e preferenze di tutti, ha spiegato il direttore artistico e presidente dell'orchestra sinfonica del Molise, Pinuccio Emanuele. Io parto da un presupposto che noi dobbiamo trasferire emozioni, ognuno di noi prende un'emozione diversa, chi gli piace lo swing, chi la classica, chi la musica elettronica, chi la musica sinfonica. Ecco, noi quest'anno abbiamo voluto, più degli altri anni, dare questo indirizzo, quello di avere quattro eccellenze su quattro generi di musiche diverse. Grandi nomi, dunque, produzioni di rilievo. Partiremo il 24 marzo con l'inaugurazione con la sabato di madre di Percolesi, per finire il 28 dicembre a Savoia, sempre, con una produzione in prima assoluta firmata da Jeff Westry, che è una sovrapposizione di due messe, quella di Heidenden, Santi Nicolai e quella di Criolla di Ramirez, fuse in un unico spettacolo, per la prima volta dato a Campopasso a Savoia in prima assoluta. Il 10 aprile Ivan Fedele porterà al Savoia di Campopasso la sua composizione Galileo's Journey, in cui si sposeranno astrofisica e musica Stefano Nanni il 21 giugno a Salerno e il 22 agosto a Termoli farà indossare all'orchestra una veste ritmico-sinfonica, pop e classico con la voce di Monia Angeli. A Campopasso e Benevento, ottobre, novembre e dicembre, uno dei più grandi pianisti al mondo, il maestro Michele Campanella, dirigerà l'orchestra sulle note di Beethoven. Il 26 aprile all'auditorium di Isernia per i 25 anni dalla morte di Fabrizio Deandre, il famoso direttore britannico Jeff Wesley arrangerà Faber nel suo Deandre sinfonico con le voci di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini. È iniziato dall'album Sonio numero uno, che abbiamo fatto con lo sostegno di Dorighezzi e la Sony, registrato adesso quasi dieci anni fa, che ha, come lo sai, con la voce di Deandre dentro. Quando facciamo in concerto, questo è un po' più difficile, quindi vengono Peppe Servillo e Pilar per interpretare le canzoni. Ma tu immagini Peppe Servillo che canta Don Rafael, è proprio magico. Un cartellone che chiude un triennio per un'orchestra, quella sinfonica del Molise, riconosciuta dal Ministero della Cultura e dal Fondo Unico per lo Spettacolo, che punta a diventare stabile entro quattro anni. Quindi dobbiamo lavorare per sostenere il lavoro dell'orchestra, dobbiamo lavorare per promuovere la definizione dell'orchestra stabile e in questo la Regione sta raccando in questo percorso. In Molise, durante la ventiquattresima giornata di raccolta del farmaco, promossa da Banco Farmaceutico, alla quale hanno aderito 16 farmacie, sono state raccolte 1740 confezioni, pari a un valore di oltre 15 mila euro. Aiuteranno nove realtà assistenziali che contribuiranno a curare oltre 2.500 persone. In Italia, nel periodo compreso tra il 6 e il 12 febbraio, sono state donate quasi 600 mila confezioni di medicinali, per un valore di oltre 5 milioni di euro. Sosterranno circa 430 mila persone in condizioni di povertà sanitaria, di cui si prendono cura le reti assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. Nuovo appuntamento del percorso infoformativo del progetto La transizione energetica realizzato dalla Camera di Commercio del Molise, prima a Isernia, poi a Campobasso. L'approfondimento ha riguardato il tema delle comunità energetiche rinnovabili. Il servizio di Barbara Fino. La transizione energetica tra efficienze e comunità energetiche rinnovabili. È stato questo il tema del secondo appuntamento informativo dedicato alle imprese e agli enti locali, promosso e organizzato dalla Camera di Commercio del Molise, attraverso l'azienda speciale Serm e il punto impresa digitale, con il supporto tecnico di Dintec, società in house del sistema camerale. Gli incontri rappresentano un momento di approfondimento sul tema delle comunità energetiche rinnovabili, che consentono ad imprese, comunità locali e cittadini di condividere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Questa energia naturalmente potrà essere prodotta con tanti piccoli impianti, impianti fotovoltaici, impianti mini-eolico, mini-itriolico, quindi poi ci sarà magari l'azienda che vorrà fare investimento più grande, andando a realizzare l'impianto per le proprie esigenze, mettendo a disposizione quelli che sono i superi dell'energia all'interno della comunità. Tariffe incentivanti, contributo in conto capitale per incentivare aziende e denti locali a promuovere le comunità energetiche rinnovabili. Le agevolazioni in questo momento sono proprio quelle che derivano dal decreto emanato sulle comunità energetiche, vanno a finanziare la possibilità di creare, mettere insieme, quindi creare una comunità proprio, una comunità che è fatta di persone, fatta anche di aziende, di enti pubblici. Tre presenti all'incontro, imprenditori e sindaci, pronti a partire con la nuova sfida della transizione energetica. Insieme ai cittadini abbiamo spiegato che cos'è una comunità energetica. Oggi siamo qui perché dobbiamo entrare nel vivo della questione, quindi adesso seguiremo le linee guida dell'Europa, del Governo. A Castelmauro sono iniziate le riprese del nuovo cortometraggio del regista molisano Simone D'Angelo, che racconta una storia del 1530 che traendo spunto da fatti realmente accaduti vede protagonista il frate Cappuccino Sante, originario proprio di Castelmauro, che fondò la provincia di Sant'Angelo dove oggi sorge il convento di San Giovanni Rotondo e dove visse San Pio da Pietrelcina. Il corto verrà girato proprio nel paese dove faranno da sfondo alla sceneggiatura gli scenari paesaggistici suggestivi del luogo. Continuano al Circolo Sannitico di Campobasso gli incontri dedicati alla scoperta attraverso percorsi enogastronomici delle filiere dell'eccellenza alimentare della regione. Questa volta si è parlato della filiera del miele con esperti universitari e apicoltori che hanno sottolineato il ruolo fondamentale delle api nell'equilibrio dell'ecosistema. Sentiamo il servizio di Gabriella Laurelli. Dalla diversità vegetale dipende la diversità di vita animale. L'ape è sicuramente il più efficiente tra gli impollinatori delle piante ad impollinazione entomofila, ovvero che hanno bisogno di insetti per essere impollinati. Questo per la loro organizzazione sociale, per la numerosità degli individui, per l'elevata adattabilità ai diversi ambienti e alle diverse essenze. Quindi per quanto riguarda le api si deve puntare ovviamente al mantenimento degli ecotipi locali. Questo è fondamentale, soprattutto in questo periodo di andamenti climatici anomali e per cui è tanto più necessario avere organismi che siano perfettamente adattati al territorio e quindi in grado di sopportare un carico o uno stress maggiore nel momento in cui si verifichi. Chiaramente se l'organismo già sta vivendo in un ambiente che non è adatto e per cui già soffre per l'adattamento a un ambiente diverso a quello in cui si è evoluto, chiaramente risentirà maggiormente delle ulteriori perturbazioni derivanti da andamenti anomali. In cosa consiste nel dettaglio l'analisi sensoriale? Attraverso l'analisi sensoriale noi andiamo a riconoscere le fioriture presenti in determinato miele che molto spesso sono dei monoflora e che ci vengono poi proposti durante l'analisi sensoriale. Ma oltre a riconoscerne le caratteristiche andiamo a vedere anche i pregi e i difetti, quindi anche se dei mieli non sono tanto buoni hanno dei difetti e anche quelli vanno indicati attraverso l'analisi sensoriale. Eccole infatti durante il suo intervento si è concentrata anche su questo, quindi vedere quali sono le peculiarità del miele ma soprattutto stare attenti come ha anticipato lei ai difetti, a quelli che sono i difetti del miele stesso. Certo perché poi alla fine l'app ci dice come fare nel senso ci dà dei segnali per farci capire quanto il miele è buono, quanto il miele ha raggiunto anche un buon grado di umidità, quindi poi sta all'apicoltore a seguire questi messaggi e anche fare molta attenzione durante la fase del confezionamento e della raccolta del miele. Ottimo il risultato del Molise ai campionati italiani di cucina della Federazione Italiana Cuochi che si sono svolti a Rimini, oltre 500 i cuochi in gara divisi tra squadre e singoli in diverse categorie, migliore allievo e quindi medaglia d'oro ad Andrea Balbi, medaglia d'argento per la chef Solli Tomasone, medaglia di bronzo per Ernesta Vassolo che ha gareggiato nella categoria K1 Senior, medaglia d'argento per Andrea Lopez Soledad, categoria K2 Senior, medaglia d'argento ancora a categoria K1 Senior per Valentina Moldoveanu, medaglia d'argento per Valentin Nestor e Domenico Ruggeri, categoria K1 Senior, ottima prova meritevole di medaglia per la giovane promessa Paolo Ciaffardini. E tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale,